Tempi duri per i fumatori più incalliti. Da oggi entrano in vigore le nuove sanzioni nei confronti di chi getta terra, in acque o negli scarichi muzziconi o cartacce, magari lanciandoli dal finestrino della propria vettura. Multe in arrivo da 50 a 500 euro anche per chi fuma in automobile dove sono presenti bambini e donne in gravidanza. Siete d'accordo? Bene, benissimo. Io adesso mi procurerò una scatolina di metallo, quella delle pasticche per la gola e quando fumo metto la cicca dentro. Sigarette vietate anche in prossimità delle strutture universitarie ospedaliere, degli istituti di ricerca scientifica e di cura pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia, ossettrice, neonatologia e pediatria. Con la nuova legge potrà essere sanzionato anche chi getta fazzoletti di carta, scontrini o chewinga. Oltre le sigarette anche le cighe, naturalmente, le cighe si attaccano da tutte le parti, le scarpe ed è una cosa vergognosa. Tanto per dire i suoi del carnevale è un macello, è stato un macello. Quello che hanno fatto per i viali dove stanno in via Alessandronini, un macello. Questa gente che ha abito il sacchetto, non è che l'ha buttato per terra. Anche quello, quelle che non raccolgono gli excrementi di cani lungo il viale, perché è pieno, basta che fare un giro è pieno. È la maleducazione dei panesi. Purtroppo si tratta di una pratica molto diffusa in Italia. Pensate che in tutta la penisola si buttano a terra ogni anno qualcosa come 72 miliardi di muzziconi, dei quali il 40% finisce per inquinare il mare e le spiagge. A fare rispettare le norme, spetterà come sempre alle forze dell'ordine, fra queste vigili urbani elevando le multe. Ma fanno già, c'erano queste sanzioni, sostanzialmente non cambiano neanche gli importi. Prevedendo due ipotesi. Le due ipotesi sono da 60 a 300 per l'abbandono dei muzziconi, quindi con una sanzione di 100 Euro per l'abbandono dei muzziconi, e viceversa una sanzione che va da 30 a 150 per gettare altre cose diverse dai muzziconi, cose di piccolo conto. Se viceversa dalla macchina buttano cose che vanno a insozzare la strada, penso a un sacchetto di rifiuti, penso a vuotare tutto il portacenere dentro la macchina con le cicche e quant'altro, la sanzione è molto più elevata e sostanzialmente va da 106 a 425 Euro rispetto all'altra che era più lieve. Sarete severi nei confronti dei trasgressori? Sicuramente sì, non saremo domattina in Borghese per sanzionare quelli che gettano la cicca, però i vigiurbani come diceva lì San Costanzo Show non vendono le supposte, i vigiurbani vendono le sanzioni, quindi sicuramente anche noi ci attiveremo per fare dei controlli specifici, mirati, come quelli per dire dell'ordura che è fatta dai cani e da quant'altro e ovviamente provvederemo a sanzionare i comportamenti che sono rispettosi delle regole. Tra le misure adottate con l'obiettivo di ottenere una stretta sul fumo e soprattutto di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio, c'è anche quella che prevede l'introduzione di immagini shock sulle confezioni. Evietate inoltre la vendita dei pacchetti da 10 sigarette di tabacco da masticare e i tabaccai che saranno sorpresi a vendere sigarette ai minorenni rischieranno grosso. Al primo errore scatterà la sospensione a una sanzione da 4.000 euro, al secondo verrà revocata la licenza e sarà combinata una multa da 8.000 euro. Anche le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina non potranno essere vendute a chi non ha ancora la maggior età. Per incentivare i cittadini a rispettare le regole, lo scorso anno, ad esempio, il comune di Pesola ha distribuito 30.000 posacenere tascabili. A Fano, invece, AZSPA li ha installati vicino ad alcuni bidoni della città, ma molte vie e interi quartieri ne sono ancora sprovvisti. Trova abbastanza posaceneri in giro nella città? No, non ce ne sono. Questo è il problema. Quindi prima mettere i posaceneri e poi fare le multe. Aveva bisogno di un po' di più. Noi siamo stati in Inghilterra, abbiamo fatto dei viaggi. Ogni dieci passi c'era un contenitore. Noi stiamo continuando ad apporre nei cestini stradali i posacenere e anche visto che comunque l'utilizzo è abbastanza sistematico, quindi verranno aumentati, certamente. Le stiamo applicando ai cestini stradali proprio in funzione proprio di un servizio ulteriore, anche perché comunque è una sensibilizzazione anche agli utenti e ai cittadini, proprio a non abbandonare i rifiuti per strada o gettarli a terra, che non riguarda solo le CIC, ma tutti i rifiuti anche di piccola dimensione.